Qui a Dialoghi sulle Mafia siamo con Joan Keralt, giornalista, scrittore spagnolo, che ha scritto un libro molto interessante anche per noi in Italia, libro che si intitola La Gomorra di Barcellona. Ecco, ci spiega un po' com'è nato questo libro? Dopo di 15 o 20 anni di dedicazione a Cosa Nostra, che è in realtà mia specializzazione, una casa editoriale española mi ha pedito un libro sobre il fenomeno dei clanes napolitanos in Barcellona. E, ovviamente, avevo fatto una aproximazione previa al tema, mi interessava, e questa è la ragione obiettiva di dove nace il libro sobre la Gomorra. Io parlo in italiano, ma il professore capisce molto bene l'italiano, parla però in spagnolo per comodità, infatti vedete sotto le traduzioni. Quando uno pensa alla Spagna, pensa a spiagge, arte, musica, grandi tradizioni, mare bello, eppure c'è anche Gomorra? Sì, quando uno pensa in Nápoles, pensa in lo stesso, in patrimonio histórico, patrimonio monumental e, desgraciadamente, abbiamo anche il fenomeno della criminalità. per una ragione molto concreta, per una ragione molto concreta, soffre il problema della criminalità organizata, in maggior medida con i clani della Camorra, per una ragione principale, che è il tráfico di drogas, e, in secondo lugar, il riciclazione. La presenza dei camorristi, dei clani camorristi, in España, per non andare molto lungo, procede dai primi anni 70, principi degli anni 80, è a dire che abbiamo già una esperienza praticamente di 30 anni. È un paese di costi, è un punto geografico imprescindibile per la recezione dei tráfici di hachis, che viene nel nord di África, è un punto di contacto molto interessante per le relazioni con i clani colombiani e latinoamericani in generale, e, dopo, perché la distribuzione di drogas passa per il territorio fino ad arrivare a Italia.